Ciao a tutti amici di Sino28, oggi vi faremo vedere un video dimostrativo dove spiegheremo come scaricare le vostre applicazioni senza aver bisogno del cavo tramite iTunes. Per prima cosa andiamo su impostazioni e abilitiamo iTunes Store, abilitiamo i download automatici sia per la musica che per la persona, in questo caso sia scaricate musica o app, queste in automatico si scaricheranno anche sugli altri vostri device. Andiamo subito a vedere cosa succede. Andiamo su iTunes, anche qua ormai si sa che bisogna crearsi un account, dopo averci creato un account e scegliamo un gioco, scegliamo un gioco qualsiasi, prendiamo questo qua, scarichiamo, lo scendiamo, facciamo scarica, ok, qua in alto vi compare la barra dove lui lo sta scaricando e è messo nella vostra applicazione, come vedete c'è anche qua, download, ok, vi chiederà ogni volta che scaricate un gioco o qualsiasi cosa la passola, io ne avevo già fatto prima, quindi non ha più richiesto, è finito, dovrebbe comparire anche il gioco sul vostro telefono, adesso aspettiamo, manca poco, fa un paio di secondi, allora quello ha scaricato, vedete che ci vorrà, qua sul telefono non c'è ancora, però ci vorrà un paio di secondi, si vede che c'è un po' di traffico, allora comunque andiamo a vedere, mentre aspettiamo, sull'app dove ci sono tutti i vostri giochi e compare, anche il vostro gioco che avete scaricato, il telefono non compare ancora, dovrebbe essere abbastanza istantaneo, adesso l'avete scaricato prima, ci mettiamo, nel frattempo possiamo andare, proviamo con un'altra applicazione, giochi, pagamento, vediamo se ne troviamo uno, allora andiamo su top gratuite, ok, allora vediamo, proviamo con la dama, dama, facciamo di nuovo come prima, il primo non è andato a buon fine, non so per, ah, ecco, si vede che l'avevo già scaricato prima, come vedete è istantaneo, scarica qua, e sta scaricando anche qua, 52 secondi, quello di prima si vede che l'avevo già scaricato, poi l'ho tolto e non me l'ha fatto più scaricare, però nella sincronizzazione sicuramente me lo metterà, come vedete scarica, lo scaricando anche qua, 29 secondi, ok, siamo quasi alla fine, 2, 1, tac, ok, qua l'ha scaricato, e magia, magia, l'ha scaricata anche qua, la dama, se noi poi andiamo a vedere nelle app della vostra libreria, oltre a questo qua che non me l'ha più fatto anche sul telefono, c'è anche, adesso vediamo dove c'è, me l'ha messo, beh, bello della diretta, non c'è, ah, è qua, l'ho trovato, eccolo qua, e voi avrete, lo avrete anche qua, con tutti i vostri giochi, ok, possiamo un attimo aprirlo, tanto per curiosità, per vedere se tutto è andato a buon fine, ok, perfetto, il gioco funziona, ciao a tutti e scusate per l'inceppamento di prima, spero che il video vi piaccia, ciao!